Ciao ragazzi, sono qui al Giardino di San Luca. Le elezioni locali ed europee si terranno venerdì 7 giugno. Tutti i residenti hanno il diritto di voto. Elezioni Consiglio di Cork. Ogni cittadino europeo ha diritto per votare elezioni Parlamento europeo. Registrarsi per votare è facile con Malcolm Nunan del Partito Verde. Hai tempo fino al 20 maggio per registrarti. Può essere fatto online su checkregister.ie. Il tuo PPS è l'aircode del luogo in cui vivi. Negli ultimi 5 anni il Partito Verde ha aiutato il Consiglio di Cork. Ogni anno il Consiglio di Cork costruisce 1300 nuove abitazioni, in clame case accessibili. Alloggi, alloggi specifici per i viaggiatori e un piano per via Spring e il cantiere di Ellis. Abbiamo ottenuto la designazione della roccia di Murphy per il parco Glenamookt, del fiume Glen, da dove sorge a Mayfield, fino a dove entra nei condotti di Blackpool. Giardini prosperano e nuovo parco in arrivo a Tinker's Cross. Lavorato con comunità per consenso su Boss Connects. Inaugurata pista ciclabile Centro Cork a Glammire e Little Island. Sarà pubblicato. Contratti investimenti ferrovia suburbana. Inclusi nuove stazioni a Blackpool, Don Kettle e Blarney. Prima strategia alberi di Cork. Focus sull'albero giusto nel posto giusto. Nel posto giusto al momento giusto. Il Consiglio di Cork pianta 4000 alberi ogni anno. Il Consiglio di Cork non usa più glifosato come diservante. Sia nei parchi che sulle strade pubbliche. Le normative sugli spettacoli di strada coinvolgono gli artisti nelle regole. Artisti giovani, esentando tariffe under 25. E artisti non accompagnati a partire dai 16 anni. La città ha più strade pedonali, aree aperte. Un sindaco della notte e una designazione per cibo e cultura notturna. Via McCurtain è rinata come una destinazione da visitare con un nuovo spazio pubblico. Cork, città missione UE neutra dal clima entro il 2030. Progetti comunitari locali premiati con il Fondo per l'azione sul clima della comunità. Pubblicata strategia ricarica veicoli elettrici. Approvato piano d'azione sul clima. Motivi per seguire l'approccio ecologico. Prima di votare il 7 giugno, registrati per assicurarti. Su checkregister.ie prima di lunedì 20 maggio. Oppure puoi contattarmi direttamente. Oliver.moranegreenparty.ie se hai domande. Grazie a tutti.